Buongiorno, buongiorno a tutti quanti, a tutte quante carissimi e carissimi, come vi dico sempre, del mio canale. Grazie per seguirmi, grazie per tutto. Allora, stamattina andiamo ad imparare un antichissimo lavoro, un antichissimo rituale che ha per protagonista un'entità meravigliosa, che già vedete qui, io ho messo una delle mie statue, San Michele Arcangelo, il principe delle milizie celesti, il difensore della razza umana, colui che è stato designato da Dio come nostro invincibile difensore contro il male, colui che con la sua spada di fuoco recide ogni legame con le cose maligne, malevole, ma non solo, colui che porta la vittoria, perché ovviamente San Michele Arcangelo è in grado di aprire le strade della nostra vita a cose che ci sono magari precluse, che sono ferme, che sono bloccate e spesso anche per motivi di natura non positiva, di energie non positive. Questo lavoro va quindi a chiedere l'intercessione di San Michele Arcangelo, che può essere chiesta per la nostra protezione, per disfarsi di uno o più nemici che ci stanno facendo nel male, per aprire le nostre strade bloccate, magari nel lavoro, magari nella professione, per risolvere un problema familiare che ci porta angustia, per molte cose potete rivolgervi a San Michele Arcangelo, a questo potentissimo Arcangelo. Allora, intanto cominciamo ad elencare ciò che serve per fare questo lavoro. Intanto vi dico subito questo, visto che con internet siamo tutti ben facilitati, fate una cosa, chi può, vedete come ho fatto anch'io, allora chi può e a una stampante vada a cercare una orazione a San Michele Arcangelo, va benissimo qualsiasi orazione, l'importante è che la sentite vibrare, che vi piace, che vi attira, quindi stampatevi un'orazione eventualmente, oppure vi cercate una pagina religiosa dove ci sono orazioni a San Michele Arcangelo e leggendola via via dal vostro smartphone potete fare lo stesso, perché serve ovviamente fare un'orazione a San Michele. Certamente anche le vostre parole, anche l'orazione fatta spontaneamente con parole vostre, con il vostro cuore potrebbe andare bene. Io vi dico ovviamente quella che è la tradizione, però è un rituale che se fatto con fede, se fatto con amore, soprattutto se fatto con dedizione, perché San Michele Arcangelo, ricordatevi, è uno spirito, è un arcangelo potentissimo e va sempre approcciato con tanto rispetto, in quanto merita questo rispetto, in quanto lui è sempre presente a chi lo invoca per spezzare i legami con il male, per aprire le strade al bene. Bene, poi andiamo avanti con quello che serve ovviamente. Vi servirà un fogliettino di carta, non proprio grandissimo, un fogliettino, poi vediamo a cosa serve. Quindi ritagliate un pezzettino di carta bianca, una penna per scrivere o anche un lapis, non fa alcuna differenza, il colore non ha molta importanza. Io l'ho presa blu, potete usare blu, nero, rosso, lapis, quello che vi pare a voi. Poi vi servirà del filo rosso, quindi andate a cercare un rocchetto di filo rosso, in genere tutti lo abbiamo nella nostra cassetta del cucito. Potrebbe essere anche, se non è filo rosso, un piccolo, diciamo, filo di lana rossa, al limite, non grandissimo, oppure anche un piccolo filino di fettuccia di cotone. Però, attenzione, usate il rosso, per favore, non cambiate colore. Ecco, quello che vi voglio dire. Poi serve una candela bianca per operare, una candela bianca, io ho preso questa che è già stata usata, ma è per una dimostrazione, logicamente. E vi dico anche un'altra cosa, chi ha la possibilità, chi può, se può reperire una candela anche che dura di più della classica candela a stilo, reperisca un candelotto di quelli abbastanza grandi, sempre di colore bianco, perché ovviamente avremo una continuità, un'energia più lunga, maggiore e andrà benissimo anche lavorare con una candela più grande. Questo lo vedete voi, eh? Io vi consiglio entrambe le opzioni, però se avete anche un problema spinoso, qualcosa di molto incistato, nel senso che si trascina da tanto tempo, offrite a San Michele una candela magari anche più grande, anche se ovviamente si può fare molto bene anche con una candela bianca. L'importante è lavorare con tanta fede. E poi, guardate, un pochino di sale grosso, eh? Quindi anche questo lo abbiamo tutti in casa. Allora, come cominciamo? Cominciamo, chiaramente, approntando il nostro piano di lavoro. Ognuno lo appronta come meglio può, logicamente. Se avete una statua di San Michele Arcangelo, potete metterla davanti, ovviamente, al vostro lavoro, al vostro piattino di lavoro, che può essere anche un pochino più grande, se volete. Se non avete la statua di San Michele, potete anche lì decidere di stampare da internet un'immaginetta e incorniciarla, altrimenti, se non avete queste possibilità, potete lavorare anche senza statua, anche senza stampa, perché, logicamente, San Michele sarà comunque presente, eh? alle nostre richieste. Allora, facciamo questa simulazione, questo esempio. Intanto, noi dobbiamo fare questo. Dobbiamo scrivere sul foglietto la richiesta, perché andiamo a fare proprio una richiesta a San Michele. Quindi, potrebbe essere così. Allora, esempio. Caro e amato. Usate le vostre parole, eh? A digetto. San Michele. Arcangelo. Arcangelo. Io, e mettete il nome. Quindi, io, Mario Rossi, ti chiedo di liberarmi da questa, oppure queste, e poi mettete i nomi, questa, queste, persona negativa, e mettete il nome, esempio negativa, si chiamerà Maria. Oppure, da queste persone negative, e mettete i nomi. Se non avete tutti i nomi, mettete, caro San Michele Arcangelo, io, Mario Rossi, ti chiedo di liberarmi da queste persone negative, oppure dalle persone negative, che mi stanno facendo del male. Questa può essere già una petizione, e ovviamente va molto bene. Altrimenti potete fare una petizione che va a chiedere aiuto alla spada di fuoco di San Michele Arcangelo, affinché vi sblocchi un problema. Quindi, caro San Michele Arcangelo, io, Mario Rossi, ti chiedo di farmi trovare un lavoro un lavoro, un lavoro adatto, nel più breve tempo possibile. Questo per le persone, per esempio, che non riescono a trovare lavoro, o che hanno continue difficoltà a trovare lavoro, i lavori non vanno in porto, non durano, c'è un fermo, un blocco. Amen. Oppure potete andare avanti all'infinito. Caro San Michele Arcangelo, io ti affido questa persona della mia famiglia che ha il tal problema, l'affido a te, guariscila, proteggila, eccetera, eccetera. Quindi, come vedete, le richieste sono tante. Ora, noi facciamo una richiesta di liberazione, di protezione dalle persone negative o da una persona negativa. Rileggiamola. Caro e amato San Michele Arcangelo, io, Mario Rossi, ti chiedo di liberarmi da questa persona negativa, Maria Bianchi. Mettete anche il cognome. Poi, se avete la data, mettete anche la data. E poi, Amen. Quindi, le petizioni, come vedete, cioè le petizioni sono le richieste, sono le nostre preghiere messe su carta. Devono essere concise, precise, si deve scrivere, non un romanzo, si deve scrivere quello che ci serve e ovviamente con molta fede. A questo punto, che cosa facciamo? Noi pieghiamo la nostra richiesta un pochettino, perché dobbiamo poi fare questa operazione che vedete. E adesso la vedremo insieme. Prendiamo il filo rosso. Prendiamo il filo rosso, oppure anche la fettuccina rossa di cotone, di lana, un pochino sottile, non deve essere grossa, grossa, quello che avete. E cosa facciamo? Prendiamo la candela, non importa incidere i vostri dati. E sulla parte superiore della candela, specialmente, andiamo ad avvolgere, andiamo ad avvolgere, come vedete, la nostra petizione a San Michele. E poi con il filo rosso e senza sprecarsi, perché deve rimanere ben legato, tutto quanto, andiamo a fare diversi giri e leghiamo questa petizione alla candela. Proprio così. Ora, io chiaramente cerco di fare del mio meglio per farvi vedere. Vedete? Andate a fare abbastanza giri, in modo che non cada, in modo che non si stacchi. E andiamo, vediamo un po' se abbiamo fatto bene, ma penso di sì. E poi, ovviamente, rompete e rimarrà, e rimarrà, vedete come rimane? Rimarrà la candela con la parte superiore, non la parte inferiore, la parte mediana. Si mette sulla parte, un pochino sotto lo stoppino, e si lega col filo rosso la nostra richiesta. A questo punto andiamo a fermare, come si dice in Brasile, a firmare la vela. Andiamo ad attaccare la vela, la candela, scusate, al piattino o al piatto. Usate voi un piatto, un piattino, quello che meglio vi viene. Io vi faccio semplicemente un esempio, una dimostrazione, e la andiamo ad attaccare. Prendiamo un po' di sale grosso e facciamo un anello intorno alla candela. Il sale grosso, ovviamente, servirà a purificare la nostra situazione da tutti gli ostacoli, dalle negatività, da tutto ciò che ci intralcia, e ovviamente è un elemento sacro, il sale. Quindi andate a mettere un po' di sale e circondate la vostra candela in questo modo. Spero che si veda, vediamo. Sì, penso proprio di sì. Allora, poi, ovviamente, come vi ho già detto, se voi volete lavorare per più giorni, e quindi questa candela rimarrà accesa per più giorni a San Michele, benissimo, usate una candela a candelotto, più grande, sempre sulla parte, vabbè, la scartate, sulla parte superiore ci andate a legare la vostra richiesta, quella che vi sta più a cuore, e lavorate così, va bene, anche in questo modo. Ovviamente, a questo punto, noi accendiamo la candela a San Michele, con grande rispetto, e andiamo a leggere, o meglio a recitare, l'orazione. Io ne ho scelto una molto, molto conosciuta, ma ce ne sono tante. Usate quella che meglio vi sentite. San Michele, Arcangelo, difendici nella battaglia. Sì, tu, il nostro sostegno contro la perfidia e le insidie del diavolo. Che Dio eserciti il tuo dominio su di lui, te ne preghiamo supplichevoli. E tu, o Principe della milizia celeste, con la tua potenza divina ricaccia nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni, i quali errano per il mondo per far perdere le anime. Amen. San Michele, Arcangelo, con la tua luce illuminaci. San Michele, Arcangelo, con le tue ali proteggici. San Michele, Arcangelo, con la tua spada difendici. O glorioso San Michele, Arcangelo, tu sei il difensore dei diritti di Dio. contro l'orgoglio di Satana e Angelo tutelare della Chiesa universale. Guarda e proteggi la mia famiglia in cammino verso il cielo. Angelo di luce, rischiara le menti dei miei cari, affinché anche tra le avverse vicende della vita credino e sperino sempre. Tu, messaggero di pace, porta questo grande dono a ogni membro della mia famiglia e alle persone a me care. che si trovano stretti nel dubbio, tormentati dalla colpa. Principe nobilissimo, San Michele, Arcangelo, valoroso guerriero dell'Altissimo, desiderando io essere nel numero dei tuoi devoti, a te oggi mi offro e mi dedico e pongo sotto la tua protezione tutto me stesso, i miei problemi, la mia casa, la mia famiglia e quanto mi appartiene. Vieni con la tua spada di fuoco e spezza tutti i malefici, le fatture, le maledizioni, gli incantesimi che sono stati fatti su di me o su qualsiasi altro membro della mia famiglia. assistimi in tutte le mie necessità e ottienimi il perdono dei peccati, la grazia di amare di cuore il mio Dio, il mio Salvatore Gesù, lo Spirito Santo, la dolce Madre Maria e tutti gli uomini che incontro sul mio cammino. difendimi da ogni forma di male, proteggimi dai pericoli, illuminami nelle scelte perché possa compiere sempre la volontà del Padre che è nei cieli per l'avvento del suo regno. Amen. Prega per noi San Michele Arcangelo affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo, Dio onnipotente ed eterno che nella tua somma clemenza e per la nostra salvezza hai scelto San Michele a principe gloriosissimo della Chiesa, fa che con il suo salutare aiuto meritiamo di essere efficacemente difesi da tutti i nemici fisici e spirituali e nell'ora della morte essere presentati alla tua eccelsa maestà. Per Cristo il nostro Signore. Amen. Questa è un'orazione molto bella e molto potente come tutte le orazioni a San Michele. Anche un'orazione di tre parole può essere potentissima. L'importante è che la fate con il cuore. Quindi fate questo lavoro con il cuore, fate questo lavoro con la certezza di essere esauditi perché San Michele Arcangelo ovviamente non prende le cose alla leggera, vi aiuterà. Poi domanda chiaramente, la candela sta lavorando, è offerta a San Michele e chiaramente andrà a consumarsi. Quando arriverà verso la parte dove c'è legato il fogliettino con la petizione e verso il filo, chiaramente le cose andranno ad ardere, ad abbruciare. Non c'è alcun problema, lasciate ardere tutto fino alla consumazione totale della candela. Poi ovviamente quando tutto sarà terminato i residui non si buttano nella spazzatura né in luoghi sporchi perché non è rispettoso, logicamente non va bene. Si possono buttare in natura, quindi tutte le varie forme di natura, anche piccolina, il vaso, l'albero, l'aiuola, l'orto, la striscia di terra, la pianta di fiori, il cespuglio. Un albero è la cosa a volte anche più consigliata, ma vedete voi quello che potete fare in base a dove abitate. Molte persone abitano nelle città grandi, c'è poco verde, quindi bisogna che si ingegnino a trovare un pochino di verde. Bene, raccogliete questi residui e li ponete in madre terra, oppure in un vaso che avete, se avete delle piante, dei vasi anche sul balcone. Le persone che abitano in paesi sono molto più facilitate, ma c'è anche un altro modo per disperdere questi residui di questo lavoro ed è quello di metterli in un cartocetto, in un sacchettino e di portarli ad un incrocio di strade. Un incrocio a X, a T, ha fatto così, non ha importanza. Voi prendete quello che resta e quello che resta lo gettate nel centro dell'incrocio e ve ne andate, ovviamente ringraziando di nuovo San Michele Arcangelo. Carissimi e carissime, il rituale si svolge in questo modo. Quindi spero che vi sia di grande aiuto, potete ripeterlo anche più volte, quindi anche una volta alla settimana per fare un esempio, o finché non c'è una risoluzione o dei miglioramenti. Molte persone hanno risultati in poche ore, in pochi giorni, altre persone hanno bisogno di più tempo perché ci sono magari negatività che remano contro, ma questo lo capirete voi. Però non perdete il contatto con San Michele Arcangelo e se non avete una statuetta o una stampa anche da tenere in casa, il mio consiglio è quello di procurarvela perché vi porterà un gran bene. Carissimi e carissime, per oggi è tutto. Ci risentiamo, ci rivediamo in un prossimo video insegnamento. Il solito bacione da Simonetta e a presto.